Una candidatura fortemente istituzionale, poi il ruolo che la provincia dovrà andare a ricoprire, che è un ente di coordinamento tra tutte le amministrazioni, che deve diventare sempre di più la casa dei comuni e quindi alla richiesta dei sindaci ho detto sì, mi candido se vi candidate anche voi. La risposta loro mi ha molto fatto piacere perché con generosità hanno accolto e a quel punto non potevo più tirarmi indietro e con senso di responsabilità ho detto beh, facciamo come squadra, affrontiamo questa avventura. Il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, ufficializza la sua candidatura alla presidenza della provincia. La sfida è col primo cittadino di Castelfranco, Stefano Marcon. Dopo la riforma del Rio, quella per il Sant'Artemio sarà una campagna elettorale molto diversa dalle precedenti. Voteranno solo i sindaci e i consiglieri dei 95 comuni della marca e i loro voti avranno un peso che varierà a seconda del numero di abitanti del comune che rappresentano. Apparentemente quindi, vista la dichiarata appartenenza politica del corpo elettorale, il risultato dovrebbe essere facilmente prevedibile a priori. In realtà non è così, perché nei nostri comuni si apre l'incognita di quell'esercito di consiglieri comunali eletti nelle fila delle liste civiche che si proclamano né di destra né di sinistra. Qui è tutto molto incerto perché c'è questo sistema dei voti ponderati, è un'avventura che ci siamo buttati tutti quanti insieme, è una sfida aperta e io penso che la cosa importante sia qui vedere più sull'appartenenza politica che ognuno ha, di cui fa parte, o civica, o dei vari partiti, ma la prospettiva di che organo si vuole costruire. Su questo spero che ci appassioniamo sempre di più in maggioranza sul fatto di aver voglia che questo ente di area vasta, provincia di Treviso, funzioni e funzioni per il bene di tutti i 95 comuni.